Paolo Salvatore è stato ex dirigente del contro terrorismo e della struttura per il contrasto alla prolificazione delle armi non convenzionali per conto dei servizi segreti italiani. Buongiorno e benvenuto su Bioblu. Buongiorno a voi. L'intelligence e soprattutto i governi che controllavano l'intelligence hanno sempre operato a difesa della libertà e della democrazia. Allora se parliamo dell'Italia e forse è anche opportuno che spendiamo qualche parola sulla situazione italiana. Anzitutto, questo cerco di spiegarlo anche nel mio libro, all'inizio del mio libro, anzitutto distinguiamo attività di intelligence e attività di sicurezza, di sicurezza interna, sono due cose completamente differenti. Io mi occupavo di intelligence, come è giusto che sia essendo Stato dell'Aise, altro è occuparsi di sicurezza interna. E cosa voglio dire? Che io opero in un contesto internazionale dove lo Stato non può esercitare la sua sovranità, ok? Quindi la mia attività di spionaggio, in qualche modo è illecita per Costituzione. Cioè io fuori dai confini nazionali svolgo un'attività di tipo informativo che non fa piacere ai paesi che subiscono questa attività. Altra cosa è l'attività di sicurezza interna, cioè io organizzo i miei servizi segreti, che è differente, il servizio segreto non necessariamente è di intelligence, i miei servizi segreti per controllare il mio territorio, la mia popolazione e tutelare la mia sovranità. Che cosa è successo in Italia? L'Italia è partita da una condizione di sconfitta del secondo conflitto mondiale, su questo siamo d'accordo. E quindi con una sovranità per quanto riguarda la politica estera dell'Italia, piuttosto limitata, perché un paese sconfitto, la prima cosa che gli viene interdetta è un'autonoma politica estera. Quindi il mondo della sicurezza italiana si è tutto rivolto al proprio interno, i cosiddetti servizi deviati, vi ricordate tutti questi discorsi? Tutto rivolto al proprio interno. Quindi una mentalità intelligence in Italia per tanti anni praticamente non c'è stata. E uno dei motivi per cui è stato scritto questo libro è anche questo per far conoscere un po' agli italiani che cosa vuol dire oggi l'intelligence. Qual è il rapporto tra le intelligenze europee? È una domanda interessante perché ci fa capire anche un po' perché l'Europa ha tanti problemi oggi. Perché qual è il rapporto tra le intelligenze europee? È un rapporto tra intelligence di stati assolutamente sovrani. Quindi la prima riflessione che mi viene da dire è che l'ideale politico di un'Europa degli stati è completamente fallito. Oggi anche i più accaniti europeisti in fondo parlano dell'Europa in termini di un'unione economica dove c'è convenienza a stare in questa unione economica. Ma gli ideali dell'Europa unita che mi hanno visto, in qualche modo io sono cresciuto, io sono del 54, il Trattato di Drummond è del 57, io sono cresciuto in questa idea di Europa ma mi ricordo che quando io ero all'università e ho frequentato anche l'Istituto di Studi Europei si parlava dell'Unione Europea come un passo prodromico a un'unione politica degli stati. Infatti si faceva anche l'esempio di come era nata la Germania, la Germania era nata esattamente in questa maniera, da uno zolverein, cioè da un'unione doganale, da un'unione economica si era passati poi a una moneta unica per passare poi a uno Stato unitario. In Europa a un certo punto questo processo si è fermato e noi stiamo in un'unione economica dove ci dicono che c'è convenienza a rimanere. Ma in effetti dal punto di vista politico l'Europa non esiste, l'abbiamo visto in tante circostanze, in tante situazioni di crisi l'Europa è un nano dal punto di vista politico e ci sono tanti stati sovrani, ognuno che persegue il proprio interesse. E questa situazione nell'intelligence si rifletteva perfettamente, quindi si ragionava in termini di... non c'era minimamente un'integrazione tra intelligenze europee, no? Ognuno ragionava secondo un interesse nazionale. Quindi direi che in Europa... però io più in generale penso che l'Europa è parte di un problema, di un problema più grande, no? Oggi la famosa distinzione tra globalismo e sovranismo. Qual è questo problema più grande? Beh, ci sono due idee fondamentali che in qualche modo confliggono. Da una parte il cosiddetto... Ah, là, del sovranismo i problemi del sovranismo li hanno ampiamente descritti in media, no? Quindi sappiamo bene qual è il pericolo di una visione sovranista delle cose. Il fatto che la gente si rinchiuda un po' nei suoi piccoli interessi, comincia ad essere intollerante verso... Direi che da questo punto di vista abbiamo sceverato in ogni modo quali sono i pericoli che sottendono a una visione sovranista delle cose. Ma però nessuno parla di quali sono i pericoli che sottendono a una visione globalista. Ecco, i pericoli che sottendono a una visione globalista è che le élite dominanti tendono a considerare la democrazia non più come un fattore fondativo di una società, ma quasi come un problema. Quindi, in qualche maniera, considerano a torto o a ragione la gente comune come un popolo da guidare e da portare verso soluzioni illuminate. Quindi, insegnargli la tolleranza, insegnargli il vivere civile. Le elezioni, per esempio, non sono più un fatto costitutivo di una società, ma sono quasi un... Però mi scusi, questo è un problema dell'intelligence, secondo lei? No, l'intelligence vive in un contesto di stati nazionali. L'intelligence si è costituito come strumento principe dello Stato. È chiaro che più lo Stato diventa un'entità di secondo livello in un contesto mondiale e più l'intelligence perde conseguentemente il suo potere. A noi piace pensare... A vantaggio di che? A vantaggio di entità sovranazionali che non sono più controllabili come prima con la polemica del fatto che le élite oggi non sono elette, ma nascono in contesti differenti dalle elezioni generali. E quindi l'intelligence è ancora un'entità, per esempio, di primo livello nella gestione delle cose internazionali. Alla gente piace pensare che la CIA sia onnipotente, no? Ma siamo veramente sicuri che oggi queste strutture come la CIA o qualsiasi intelligence di qualsiasi grande paese siano veramente gli attori principali nella scena internazionale. Ecco, questo è l'interrogativo che ci si pone quando si considera qual è la rilevanza oggi di uno Stato nazionale in un contesto mondiale. Lasciamo un po' da parte l'Europa, togliamoci il vizio di pensare che l'Europa sia il centro del mondo. Purtroppo l'Europa non è più al centro del mondo e le cose non avvengono perché è l'Europa che lo decide o non lo decide. Le cose avvengono. Le cose avvengono? Senza che l'Europa possa essere la protagonista degli accadimenti. Per esempio, che cosa sta avvenendo oggi? Qual è il modello che propone questa civiltà che noi genericamente abbiamo definito globalista? Qual è la visione della democrazia? Pensiamo a come vivono molti miliardi di cittadini del mondo oggi. Qual è il modello imperante? È quello che un politologo svizzero, Rudiger, definiva per esempio la democratura. Un sistema di società che apparentemente mantiene intatti gli strumenti della democrazia, quindi elezioni, eccetera. Ma in effetti queste democrazie nascondono, da qui il termine democratura, democrazia dittatura, nascondono una vena autoritaria che è la sostanza di quel paese. Mi viene in mente il modello Cina, ovviamente. E già stiamo parlando quindi di un miliardo e oltre di abitanti, non so a quanto sono arrivati. Ma questo modello si è esteso per esempio in molti paesi dell'Asia. Esiste un sistema di democrazia autoritaria che si sta diffondendo nel mondo islamico. A tutti abbiamo salutato con piacere il colpo di Stato per esempio di Al-Sisi in Egitto. Ma che bello, ci siamo liberati degli islamisti. Ma in effetti, se ci pensiamo bene, quel colpo di Stato ha tolto di mezzo un partito politico che non erano terroristi, nonostante una certa propaganda un po' superficiale. Ha tolto di mezzo un partito democraticamente eletto, ha instaurato un regime militare e poi tra le altre cose noi abbiamo subito anche qualche tempo fa anche gli effetti dell'autoritarismo di questo regime militare. Mi riferisco per esempio al caso Reggeni, tanto per far capire che tipo di società si stanno instaurando. Ecco, quindi nel globalismo c'è questa visione autoritaria. Attenzione, io non vorrei esprimere idee. È chiaro che negli scenari ci sono accezioni positive e negative. Quindi qualcuno potrebbe dire che invece che autoritaria potremmo definirla in alcuni casi illuminata. Comunque sta di fatto. E' l'int dominanti che impongono a una popolazione un solo tipo di libertà, che è la libertà economica. L'unica cosa che tu puoi fare è cercare, nei limiti del possibile, di arricchirti. Per il resto non rompere le scatole. Ecco, questa è la visione che nel mondo si sta mettendo in essere, ma in vastissime aree del mondo. Quindi stiamo parlando del destino attuale di miliardi di persone che vivono in questa nuova società che è appunto stata opportunamente definita democratura, che è una società rivestita di democrazia, ma sostanzialmente autoritaria. Ecco, io in questo senso, da vecchio uomo dell'intelligence, ovviamente ho ancora una visione di uno Stato nazionale che oltretutto aveva sviluppato nel bene e nel male quei sani anticorpi, che era appunto la coscienza politica, il fatto che il popolo dovesse decidere chi è, e che invece piano piano ci stanno sfilando, ci stanno sfilando dalle mani in nome di nuovi scenari che hanno dei fattori di, secondo me, di pericolosità. Senta, lei prima ha detto una cosa, ha detto che adesso delle elite sovranazionali hanno preso, diciamo, il controllo della situazione a differenza di prima. Quindi prima chi aveva il controllo? Le democrazie o le intelligence? L'intelligence è uno strumento di un esecutivo, quindi io non credo alle intelligence che avessero un potere, un potere di azione che non fosse stato indicato dall'autorità politica. Attenzione, anche alcune distorsioni dell'intelligence, parliamoci chiaro, quando si parla della CIA, per esempio, tutti hanno in mente la politica della CIA in America Latina. Ma in effetti, questa politica della CIA in America Latina era sostanzialmente determinata da una politica americana che seguiva pervicacemente la famosa dottrina Morro, non so se... cioè il big stick. I paesi dell'America Latina sono parte integrante del sistema strategico americano e quindi tutto ciò che non va bene all'America deve essere represso senza alcuna pietà. E quindi è dalla fine dell'Ottocento a oggi, che in America, anzi, agli anni settanta, che in America Latina avveniva solo quello che piaceva agli Stati Uniti. La CIA in questo non è che era il protagonista, non si inventava la politica dell'America Latina, ma al contrario seguiva le indicazioni del potere costituito. Quindi l'intelligence è al servizio dello Stato sovrano e fa quello che gli dice lo Stato sovrano. Posso aggiungere un particolare divertente. Voi sapete che nel mio libro la prefazione è stata fatta da un mio amico americano che è stato un altro esponente della CIA. Capo della CIA in Italia. Sì, tra le altre cose. L'altra volta, in un'intervista comune al Salone del Libro, chiaramente descriveva l'attività della CIA e l'uditorio era molto preso anche perché c'è tutto un immaginario collettivo dietro il mondo dell'intelligence. A un certo punto, per esempio, quando ha detto che in Iraq la CIA era stata obbligata dal portere costituito a non interferire nelle elezioni irachene e a favorire il processo democratico iracheno, ho visto delle smorfie di disappunto nella gente perché alla gente non piace quest'idea di un organismo intelligence che segue le direttive di un potere politico, mentre invece nella realtà è questo il ruolo dell'intelligence, seguire le direttive di uno Stato sovrano e costituire in qualche modo la punta di diamante della politica dell'esecutivo all'estero, no? Soprattutto in questo periodo di gravi, di crisi, prendiamo per esempio la crisi siriana o la crisi libica, oggi appena scoppia una crisi, la prima entità che collassa è proprio lo Stato di quel paese, no? Non esistono più conflitti tradizionali tra paesi, ci sono due eserciti che si fronteggiano armati, no? Oggi la crisi come avviene? Con un'infiltrazione capillare. Sì, ma a un certo punto collassa lo Stato che nella migliore delle ipotesi diventa solo una delle parti in lotta, vedasi Siria, o addirittura collassa completamente, vedasi Libia, e quindi gli strumenti tradizionali della politica estera non sono più in grado di affrontare questi fenomeni di crisi. Quali sono gli strumenti nazionali della politica estera? Diplomazia e forze armate. Il diplomatico, se non ha un altro diplomatico con cui confrontarsi o contro cui confrontarsi, perde un po' il suo ruolo. Chi è quindi l'entità statale, lo strumento dell'esecutivo che può giocare un ruolo fondamentale in questi stati dove collassa un'autorità centrale? Proprio l'intelligence, perché l'intelligence per la sua non convenzionalità si può confrontare con il capo di una banda armata, con il capo tribù di un'area, con l'esponente più in vista di una fazione politico-religiosa, mentre gli strumenti tradizionali hanno grossa difficoltà a muoversi in queste aree. Quindi, da questo punto di vista, lo strumento intelligence è e rimane ancora lo strumento principe di un esecutivo o di uno stato sovrano. Ora, la domanda sarebbe l'intelligence interviene solo dopo le destabilizzazioni o magari è anche... E le crea. Questo fa parte un po' del gioco internazionale. Ripeto, dipende un po' dall'indirizzo, dagli interessi sovrani di un paese. E' ovvio che più un'intelligence è al servizio di una politica estera aggressiva e più la sua funzione rifletterà questo indirizzo. Da questo punto di vista ritorniamo, per esempio, al discorso degli Stati Uniti. io cito spesso gli Stati Uniti perché bene o male è il nostro... è il nostro... è il paese di riferimento della nostra civiltà. E' inutile che ci prendiamo in giro ma dal secondo... dalla fine della seconda guerra mondiale a oggi in qualche modo sono gli Stati Uniti che sono un po' al centro delle idee e delle vite di tutti noi occidentali. Ecco, per esempio, negli ultimi dieci anni dopo la politica di Bush gli Stati Uniti non hanno svolto una attività aggressiva per esempio in certe aree. La destabilizzazione della Libia non è avvenuta non è avvenuta per, in qualche modo per opera degli Stati Uniti anzi, gli Stati Uniti hanno subito l'azione aggressiva di altri paesi e si sono giocoforza dovuti accodare ma tutti sanno per esempio che in qualche modo la crisi libica molti accusano la Francia di essere stata di essere stata all'origine della grave destabilizzazione che è avvenuta in Libia ma ci sono anche altri paesi che hanno contribuito a destabilizzare il precedente regime. La politica dell'intelligence si conforma alla politica di un esecutivo un esecutivo che ha una politica aggressiva verso una certa area probabilmente darà all'intelligence degli indirizzi e dei compiti di destabilizzazione di quell'area. Normalmente un paese che non ha una forte proiezione internazionale prendiamo l'Italia tende a limitare l'azione della sua intelligence tutelando i legittimi interessi che ci sono nelle aree dove l'Italia per esempio ha degli interessi da tutelare. Io non sono molto d'accordo sul fatto che gli Stati Uniti negli ultimi anni non siano stati molto aggressivi lo possiamo vedere in Siria come lo possiamo vedere in Yemen o in altre zone. Ma non è l'attore di primo piano in Siria ma non avete notato? Anche in Corea. Ah, un attimo. Allora questa cosa necessita di una precisazione Obama è stato un grande presidente e ha dettato le nuove linee della politica estera americana mettendo gli interessi strategici americani in una zona che è completamente diversa da quella che noi possiamo immaginare ed è infatti il cosiddetto pivot to Asia cioè l'interesse strategico americano oggi è il pacifico se noi vediamo il mappamondo normalmente siamo abituati a vedere il mappamondo centrato sul Mediterraneo con le città sante con le città sante prima Geluselemme poi Roma che sono al centro di questo mondo perché effettivamente erano da queste civiltà che noi troviamo gli orientamenti più profondi se vogliamo la nostra civiltà come diceva Croce tutti dobbiamo definirci cristiani anche se magari uno apparentemente non professa quella fede oggi per capire come va il mondo bisogna rovesciare rovesciare il mappamondo e mettere al centro di questo mappamondo Silicon Valley la creatrice della nostra religione la cosiddetta tecnoreligione quindi noi mettiamo Silicon Valley al centro di questo mappamondo e vedrete che se mettiamo il Silicon Valley al centro di questo mappamondo quasi tutto il mappamondo sarà occupato dall'area del Pacifico ok metà e questa è la vera politica estera americana quindi quando Corea ma io parlerei anche di Filippine Vietnam e normalmente i primi paesi che un presidente degli Stati Uniti visita sono quelli non sono l'Europa però è un errore pensare che per esempio in Siria gli Stati Uniti giochino un ruolo di primo piano la Siria il Medio Oriente in genere tutte le aree del Nord Africa sono considerate sono considerate aree non strategiche dai nuovi modelli della politica estera americana e quindi gli Stati Uniti mi vuole dire scusi che gli Stati Uniti non hanno interesse a far passare un gasdotto in Siria ma certo sì a parte che anche il discorso energetico andrebbe tutto da chierire oggi perché purtroppo per chi è interessato alle sorti dell'ecosistema purtroppo noi non viviamo in un'epoca di scarse risorse energetiche purtroppo abbiamo scoperto che navichiamo in un mare di petrolio e di gas naturale quindi è vero che è importantissimo il discorso dei gasdotti ma certo non è talmente importante da indurre un paese a provocare politiche destabilizzanti che poi si sa quando si inizia e non si sa quando si finisce gli Stati Uniti abbiamo detto che hanno l'interesse vero strategico è l'Asia come si comportano nelle altre aree del mondo si comportano anzitutto legandosi a un sistema il cosiddetto hub di alleanze per cui loro individuano in ogni regione un paese particolarmente affidabile sotto il punto di vista della sicurezza degli Stati Uniti un paese che è sempre stato tradizionalmente alleato degli Stati Uniti e qui bravissimo quindi in Medio Oriente gli Stati Uniti seguono e appoggiano quelli che sono gli interessi di tradizionali alleati di quell'area Arabia Saudita e Israele che tra le altre cose in questo periodo vanno molto molto d'accordo molto più di quanto si pensi analogamente si mantiene questa alleanza tradizionale con l'Europa e in tutte le varie aree gli Stati Uniti eleggono il paese di riferimento l'idea di essere guardiani del mondo l'idea bushana bush memoria di essere i guardiani del mondo è un'idea che è stata completamente rivoluzionata dalla nuova politica estera americana la politica estera americana persegue tenacemente e direi spietatamente tutti coloro che ledono gli interessi o addirittura la sicurezza dei cittadini americani nel mondo quindi nessuna pietà per chi per esempio ammazza un americano un terrorista che ammazza un americano da qualche parte seguono con molta attenzione gli sviluppi delle crisi dando alle organizzazioni internazionali il giusto appoggio ma soprattutto sostengono le politiche dei loro alleati nei vari contesti regionali questa è la nuova politica americana e ritorniamo al caso siriano da questo punto di vista l'attore principale della crisi siriana non è Washington ma Riad per esempio potremmo parlare del ruolo di Mosca che sta svolgendo un'azione un po' di disturbo nell'establishment mondiale ma sicuramente non sono gli Stati Uniti e la stessa crisi libica ha visto gli Stati Uniti sostanzialmente defilati da un certo punto di vista non è una buona notizia per noi perché noi c'eravamo da tanto tempo abituati ad avere in qualche modo un ombrello che proteggeva i nostri interessi costituito dagli Stati Uniti purtroppo oggi ci siamo ritrovati soli a gestire determinate crisi però c'è stato qualcosa di molto interessante in questi ultimi anni e la politica di Trump non ha assolutamente smentito nonostante le dichiarazioni roboanti non ha assolutamente smentito questa questa impostazione giustamente si è parlato della Gorea ma la Corea rientra perfettamente in questo discorso strategico americano che sta costituendo una cornice di alleanze Corea Giappone Filippine Vietnam è uno dei paesi più vicini agli interessi che guarda caso sembra una cortina contenitiva diciamo e a come sta reagendo la Cina per esempio costruendo una flotta militare di grandissima rilevanza l'unica iniziativa militare cinese fuori dal contesto cinese è una base navale a Gibuti è riuscita ad ottenere una base navale a Gibuti che in qualche modo spezza un po' questo o naturalmente stiamo parlando stiamo parlando di contesti assolutamente di tensione assolutamente accettabile però è interessante notare diciamo che queste sono tutte le cose che noi vediamo riusciamo a vedere no? per quello che ho capito l'intelligenza si occupa più di ciò che non si vede ad esempio i microchip che la Cina ha sviluppato e inserito nei server venduti all'America e altri paesi del mondo cosa ne pensa? beh io penso che l'azione di influenza è parte costitutiva di un'attività dell'intelligence e stiamo parlando di microchip grandi come la punta di uno spillo sì però devo dire la verità che questa notizia è molto recente io vorrei che in qualche modo fosse un po' metabolizzata e ricondotta alle sue reali alle sue reali alla sua reale consistenza io sono un po' scettico siccome sono di un'altra generazione dice fino ad oggi l'hanno fatto tutti adesso ci stupiamo della Cina esatto io sono un po' scettico di queste nuove rivelazioni no? anche l'influenza l'influenza russa nelle elezioni americane no? ma se ci fosse stata è un'azione di influenza che la Russia negli ultimi 30 anni ha subito in maniera gravissima quindi in qualche maniera sarebbe un restituire un rendere quello che chi spinge di più secondo lei? appunto è questo in un discorso di azioni di influenza globale io ho la sensazione che che i servizi di intelligenza giochino più un ruolo da da utilizzatori che da promotori di certe iniziative no? anche il caso di Cambridge Analytica io mi chiedo se in qualche maniera ove fosse confermata quest'azione di 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 influenza del servizio russo se possiamo definirlo il promotore di questa iniziativa o non nient'altro che uno dei tanti utenti di queste società che oggi influenzano per la vendita di un dentifricio domani per quella di un'automobile e dopo domani per quella di un politico a proposito il mercato oggi c'è un un dio che viene riconosciuto tale da tutti no? il cosiddetto mercato il mercato ha influenzato come è logico che avvenga ha influenzato molto anche le idee della politica voi sapete che nel mercato si ragiona in termini di convincere un consumatore medio che ha assimilato a un ragazzino di 13 anni voi sapete che l'idea di uno che deve piazzare un prodotto e deve conformare una politica di promozione di quel prodotto su un cervello che è mediamente un ragazzino di 13 anni ecco io non vorrei che questa idea piano piano si sia trasferita dal mondo del mercato al mondo della politica noi abbiamo avuto interessanti esempi di partiti politici che sono nati sostenuti da un pool di venditori di marketing operators di promotori di pubblicità lo spin doctor è la figura è la figura che in qualche modo oggi va molto di moda nel mondo della politica ma in effetti è stata traslata integralmente da quello dell'economia quindi da questo punto di vista tutto ciò che rientra in un'azione di promozione di piazzare il proprio prodotto non può non aver influenzato anche la politica e da questo punto di vista forse più che contestare la legittimità di un'azione di influenza verso un'elezione politica dobbiamo forse crearci questi anticorpi noi e promuovere nei limiti del possibile una maturità per esempio dell'elettore nel caso di un'elezione politica in questa lotta di potere tra stati nazionali e entità sovranazionali gli stati nazionali hanno i loro eserciti le loro monete in alcuni casi non sempre e le loro intelligenze le entità sovranazionali hanno gli stessi mezzi secondo lei si sono dotati dei stessi mezzi un discorso molto interessante nel settore della sicurezza tradizionalmente è sempre stato un settore appannaggio dello Stato sovrano è impensabile un concetto di sicurezza che non sia legato a una sicurezza pubblica non parliamo poi del concetto di sicurezza esterna che è sempre stata tradizionalmente affidata agli eserciti oggi esiste un fenomeno molto molto interessante e anche questo a mio avviso preoccupante ed è il concetto di sicurezza che non è più un concetto affidato a stati sovrani ma è un concetto di sicurezza che viene gestito per esempio in maniera privatistica esiste hanno calcolato che negli Stati Uniti per esempio le persone che direttamente o indirettamente lavorano nel settore della sicurezza privata assommano circa 4 milioni naturalmente si intende anche quelli sicurezza interna tipica per esempio di un sorvegliante di un supermercato però stiamo sempre parlando di una sicurezza ormai appaltata a privati ci sono le cosiddette private military companies per esempio che sono un aspetto di gravissima preoccupazione perché finora tutte le crisi internazionali erano gestite in prima persona dagli Stati oggi esiste la possibilità per esempio di promuovere azioni a tutti gli effetti di guerra ricorrendo a queste società che non sono altro in soldoni che società di mercenariato quindi in una visione futura in una visione futura quello che fino ad oggi era appannaggio esclusivo dello Stato sovrano potrebbe diventare potrebbe diventare oggetto di interesse di grave interesse da parte di queste entità sovranazionali non esiste più una guerra tradizionale da quanti anni è che due Stati non si scontrano militarmente oggi le operazioni sono tutte operazioni di cosiddetto peacekeeping mantenere la pace in un paese in pratica intervenire in un paese che per qualche motivo è eversivo dell'ordine mondiale e colpirlo e neutralizzarlo sterilizzarlo finora questo compito per esempio se l'era assunto gli Stati Uniti abbiamo visto che gli Stati Uniti hanno cambiato completamente politica e chi lo dice che nei prossimi anni magari queste operazioni di peacekeeping di mantenere un ordine non sia in qualche modo possibile che venga attuato da queste entità sovranazionali che dispongono di risorse immense capaci di poi teniamo conto che oggi è un fatto sicuramente positivo ma la violenza generalizzata su larga scala è un fatto decisamente obsoleto oggi una guerra una guerra così come la intendiamo noi è veramente uno spreco di risorse che l'ideologia di oggi dettata sull'economia e sul mercato non si può non si può permettere quindi nel prossimo futuro io mi immagino operazioni molto più mirate molto meno eclatanti di eliminazione fisica per esempio assolutamente mirata pensate al discorso dei droni assolutamente mirata che vada a eliminare persone che non individui che in qualche maniera siano eversivi dell'ordine mondiale già oggi molte attività molte attività relative ai droni vengono appaltate a società private che svolgono questa attività in qualche modo per conto ovviamente di uno stato sovrano quando queste società operano per conto di stati devono rispettare le stesse regole di ingaggio ad esempio degli eserciti o di forze di intelligence che probabilmente anzi glielo chiedo sono diverse le regole di ingaggio tra forze armate e intelligence immagino e questo tipo di entità quali devono rispettare? Ma è questo il problema che l'esistenza stessa di queste società costituisce un fattore di minaccia oggi probabilmente ancora è troppo per resto per poter parlare di queste entità che agiscano indipendentemente da uno stato sorano quindi è chiaro che è uno scenario che è una scenario che in qualche maniera non può essere realistico oggi esistono dei punti di connessione che rendono ancora formalmente una decisione di questo tipo nelle mani di uno stato no? si parla oggi molto spesso di apparato militare industriale no? molto spesso le connessioni tra l'apparato militare e l'apparato industriale oggi sono talmente strette che la collaborazione la cooperazione tra queste entità è quasi fisiologica nel globalismo ci sono degli scenari degli scenari che destano altrettanta inquietudine di una visione sovranista intesa in senso di intolleranza di ritorno al passato di rinchiudersi nelle proprie frontiere è chiaro che poi alla fine stiamo parlando di scenari ed è molto importante stabilire no? quali sono gli scenari più inquietanti e quelli più accettabili di rinchiudersi di rinchiudersi di rinchiudersi in dati di rinchiudersi in dati più di rinchiudersi di rinchiudersi Grazie a tutti.